Come si può iniziare? Che sarà forse più lunga di quella che dirò sulle prospettive di ricerca, perché tutto è cominciato vent'anni fa, che è già un periodo abbastanza lungo, è cominciato con un invito che ho avuto da parte di Stefano Vacari, giovane sindaco di Nonantola, è stato nel 1995, cioè quasi vent'anni fa, di scrivere il libro sui ragazzi di Villa Emma. Come mai che mi ha invitato? Sono stato raccomandato dal presidente del CEDEC, dal centro di collaborazione ebraico contemporaneo a Milano, dal professor Luisa Lamontara Ottolenghi, che ha pensato che io sarei adatto a fare questo lavoro, perché avevo già pubblicato un altro libro di ricerca, Il rifugio precario e la storia dei profughi prevalentemente ebrei in Italia dopo il 1933. Allora così conoscevo bene il contesto storico dei ragazzi di Villa Emma, conoscevo anche un po' la loro storia, ma in modo molto generico e superficiale, quindi poi più tardi mi sono accorto che ho fatto ancora degli sbagli, perché le mie osservazioni nel rifugio precario hanno basato su pubblicazioni non ancora molto complete. Allora così sono andato avanti, ma prima che potevo accettare l'invito di Stefano, dovevo verificare se effettivamente era possibile fare questa ricerca. Cioè dovevo dare un'occhiata dapprima agli archivi, una prima andaggine del materiale e mi sono accorto che in Italia c'è ben poco, in Germania c'è niente, quasi anche pochissimo, per l'Italia ho provato qualcosa, quindi tutto dipendeva dunque dagli archivi israeliani. Ho avuto l'occasione di andare in Israele, Stefano è stato invitato, mi ha pregato di accompagnarlo per un incontro con i ragazzi di Villa Emma. Yat Vashem, all'autunno del 1995, ha invitato tutti i ragazzi, fra virgolette, a riunirsi per il cinquantesimo anniversario del loro arrivo in Palestina, Israele. Allora così avevo l'occasione di conoscere la maggior parte di loro, tutti che erano presenti, in due giorni. E dunque così potevo prendere i propri primi contatti, fare appuntamenti, soprattutto ho conosciuto Josco, Giuseppe Indic, capogravo gruppo, e sua moglie Lilli. Sua moglie Lilli era berlinese, cioè si sono conosciute in Svizzera. Lei era profuga ebrea da Berlino, al primo tempo era belgio, poi in Francia, la Francia è passata in Svizzera. E loro si sono conosciute nel 1944 in un istituto sionista in Svizzera. E lui, Josco, era di una famiglia già manofona che veniva dall'Ungaria. Cioè lui è nato, lui era cresciuto a Oscec, suo padre era cantore della senagoga di Oscec in Coazia, ma la famiglia era già manofona. Quindi questo è già importantissimo per spiegare, anche perché Luisa mi ha affidato questo impegno. La conoscenza del tedesco era elementare per fare il libro sui ragazzi di viola, ma non soltanto per le interviste. Per le interviste aveva dei problemi, perché non potevo comunicare, per esempio, con i ragazzi jugoslavi, spesso. Cioè se non parlavano italiano, o forse qualcuno parlava anche tedesco, perché non sapevo l'ebraico e non sapevo il serbo-coato, quindi non potevo comunicare con loro e avevo qualche delusione a questo punto. Ma d'altra parte avevo la possibilità di vedere tanti, anche che vivano in Svizzera. Ecco Asha, per esempio, ha sua famiglia e sua sorella, Alice Biu, che vive 92 anni ancora a Zurico. E poi in America, anche negli Stati Uniti, soprattutto il mio carissimo amico Max Federman, che purtroppo adesso è anche uno stato di demenza, mi dispiace, è una cosa triste. Così si vedono come tutti pian piano scompaiono, opposono, un stato di salute, grazie, che non si possono più parlare con loro. Questo è anche la Tuchne, la Tuchne, per esempio. Allora, così, con questa esperienza israeliana, potevo dire di Sia, Stefano, che il progetto poteva essere lanciato, avviato, però un po' mancava la documentazione per la Villa Emma, proprio. In Israele c'era tutto sull'organizzazione sionista, sull'organizzazione della fuga, su Zagabria, su Vienna, anche molto sull'Estno-Birdo, ma pochissimo per Villa Emma. Dunque avevo una grande, grande fortuna, cioè, devo dire, una fortuna incredibile da ricercatore. Mi sono rivolto al direttore dell'archivio di Stato di Modena, che era Angelo Spaggiari. E questo, se lui aveva documenti della prefettura che spettavano a Villa Emma, mi ha detto che purtroppo questi documenti non erano ancora aperti alla consultazione. Mi ha detto che probabilmente non c'è niente per me. Invece lui si sbagliava, perché dieci anni più tardi, quando questo fondo, la prefettura, è stato aperto, Vittorio Ferri ha scoperto quei documenti importantissimi di Salomone Papo, diciamo, il rapporto dei carabinieri di Gaiato di Pavullo alla questura che parla del suo arresto e sul trasferimento a Fossoli. Quindi c'era comunque qualcosa che io non conoscevo ancora. Allora Spaggiari, quando sono entrato nell'archivio di Stato di Modena, mi disse, buongiorno, ci conosciamo. Ma io dico, ma non sapevo rispondere, perché come lo potevo conoscere? E ha detto, sì, ma lei ha lavorato qui nel mio archivio, ha studiato un manoscritto di un uominiista ferrarese del 500. Eh sì, è vero, nel 67, quando ha fatto un artista dottorato sull'umanismo italiano, allora ha lavorato già nell'archivio di Stato di Modena, e lui mi ha detto, io sono stato all'assistenza del direttore, e lei ha sempre portato i suoi documenti per la consultazione al suo tavolo del lavoro, che si è creato subito un simpatico contatto, e così mi ha detto, allora venga io qualcosa per lei. Mi ha portato l'inventario, dattilo scritto, non ancora pubblicato, dell'archivio, in riottonamento, della Comunità Ebraica di Modena. Cioè, io sono stato il primo a poterlo vedere, ho aperto questo, dattilo scritto, ho visto, ecco qui, tutta la cosmodenza interna di Villa Emma, le lettere di Giacchia, il rapporto Fritman, e tutti questi documenti che poi erano essenziali per la presentazione del mio libro, quindi voglio dire che è stata proprio una fortuna, fortuna, e voglio ringraziare questo momento anche a Angelo Spaggiari di avermi questo segno di fiducia, di avermi mostrato, e il dattilo scritto non è ancora pubblicato. E con questo poi avevo la gentile raccomandazione di Felice Crema, Presidente del Comitato Ebraico di Modena, e anche di Luisella Motta-Ottolenghi, per poter già consultare gli atti della Comitato Ebraico di Monica, che era, come già detto, fondamentale per il mio libro sui ragazzi di Villa Emma. Dunque, naturalmente, la ricchezza dei documenti ha aumentato anche la durata della redazione e della preparazione del libro, finalmente uscito nel 2001-2002 in edizione tedesca ed edizione italiana. L'edizione italiana aveva un po' un brutto destino, è stato stampato a 2.800 coppie, e dopo che erano venduti 1.300 in circa, la casa editrice l'ha mandato a Macero, senza informarmi del resto, che è proprio un problema. E quindi, forse, proprio ne aveva parlato al momento di acquistare un certo numero a un prezzo speciale a negoziare con la casa editrice per la fondazione. Invece, l'hanno negato, ma non hanno detto che hanno già mandato il libro a Macero, io l'ho saputo soltanto dal conteggio annuale. Ho detto il conteggio annuale e ho visto cosa è capitato a Macero, a Macero, a Macero. Allora, così sono andate le cose, e dunque i diritti sono dal RCS Libri. Cioè, l'avevo affidato alla Nuova Italia, perché aveva un ottimo lavoro con Federico Codignola, che aveva stampato il rifugio precario e volevo darlo di nuovo a lui. Ma in quel momento la casa editrice in vendita è passata a RCS Libri. Non ho fatto attenzione, è un giammanio, è un po' lontano, e poi ho visto che era altra gente, altri responsabili. e così le cose non sono andate tanto bene. Invece ho fatto, in Germania è uscito in edizione tedesca presso il centro di ricerca dell'antisemitismo, che è al periodo stato diretto da Wolfgang Bens, che ha anche un po' procurato un finanziamento di questa ricerca. Però naturalmente nell'ambito di una colonna scientifica il libro non poteva avere questa diffusione che avrebbe forse meritato nel grande pubblico. così ho deciso di farne una nuova edizione tedesca che è uscita una settimana fa. Sono molto felice con in copertina una riproduzione di un quadro a olio che la pittrice Hannah Seidenberg, che era una ragazza di Villa Emma, ha regalato al comune di Nantale che abbiamo anche presentato tre o quattro anni fa qui in un giorno dell'occasione in un giorno di memoria. Dunque per un'edizione italiana per un momento non la oso fare perché ho altri progetti rimandati anche per progetti di Villa Emma soprattutto di Ara della Sonia. Sto preparando un libro su un pittore tedesco molto noto Rudolf Levy che è stato diportato da Firenze a Auschwitz e vuole ricostruire gli anni dell'esilio quindi è un progetto che non posso più rimandare perché è rimandato già due volte ma per un momento dobbiamo aspettare per l'Italia per la Villa Emma. Poi un altro progetto che non volevo farlo ma siccome si tratta di mia zia mia zia è stata una scoltrice Jenny Wittmann-Mucchi bravissima scoltrice ancora oggi molto apprezzata a Milano è vissuto con il suo marito il pittore Gabriele Mucchi a Milano dopo il 1933 e quindi dopo la fine della guerra negli anni 50 è tornato a Berlino Est assieme al marito non abbiamo avuto fino adesso in Germania una vera mostra rappresentativa della sua opera complessiva perché la parola democratica ha mostrato la sua opera più in vista cioè in buone mostra che hanno fatto il costume dopo la sua morte ma manca tutto diciamo una vista all'insieme delle sue sviluppo poi interessantemente comincia con l'arte sacra e finisce in un inizio in un engagement politico sociale dovuto alla sua partecipazione alla resistenza italiana come partigiana delle brigate garibaldi quindi questa mostra quindi mi sentivo obbligato non potevo dire di no e quindi perciò per i prossimi due anni mi sembra che non posso fare altre cose quindi allora altro progetto ragazzi di Villa Emma è stata la pubblicazione delle momore di Yosco che sono uscite dal titolo anni in fuga che non erano il titolo originale è un titolo mio mi dispiace devo dirlo perché il titolo i ragazzi di Villa Emma che aveva dato Yosco al suo manoscritto non era più disponibile perché c'era un romanzo di Giuseppe Pedraiali uscito presso il Mondadori dal titolo i ragazzi di Villa Emma quindi il titolo era già protetto dovevamo cercare un altro titolo e così mi è venuto in mente questo titolo dunque importantissima tespo in meanza scritta già nel 1945 pochi mesi dopo il suo arrivo in Palestina fresco di memoria lui e la moglie mi hanno affidato il manoscritto originale in tedesco che aveva 460 pagine che è un po' diciamo molto confuso un po' anche un abbozzo con cancellazione ripetizione eccetera eccetera temevo di non farcela mai infine comunque dopo alcuni anni alcuni mesi di lavoro sono riuscito a ricostruire un buon testo leggibile e avevo anche il testo dell'edizione ebraica ma non sapendo l'ebraico dovevo servirmi una tradizione dall'ebraico in inglese che ha fatto Joseph Zamora uno dei ragazzi del gruppo di Giosco che non era a Villa Emma che invece era internato a Ficarola assieme col padre perché dall'esterno il padre all'interramento poi del resto poi tutti e due sono stati presi deputati a Auschwitz il mio padre è stato ucciso e il figlio è sopravvissuto allora lui ha fatto una tradizione dell'ebraico inglese ha cercato in vano un editore negli Stati Uniti immagiamoci che un testo dei socialisti di sinistra sionisti negli Stati Uniti negli anni 70-80 non c'era nessuna speranza quindi allora il libro la tradizione è rimasta mai pubblicata di una copia così potevo anche comparare con l'edizione ebraica accorata da Giosco nell'83 e potevo fare la mia scelta è un problema editoriale che è anche esposto nell'introduzione poi un prossimo progetto è stata la pubblicazione del diario della Shoshana Harari della Sonia Burrus Maria ne ha parlato Maria ha avuto una coppia in tedesco il libro è uscito l'anno scorso in edizione tedesca abbiamo pronta l'edizione italiana e possiamo strantarlo e se tu come tu hai proposto ne puoi anche dire qualcosa a proposito dopo al giorno della memoria prossima sono d'accordo con questa data che andrebbe benissimo è importantissima di avere la prima volta una testimonianza immediata di una diciamo di una ragazza di una ragazza di Vile Enola che mi mancava quando ho scritto il mio libro cercavo in vano l'ha detto anche la prefazione mi incresce che non abbiamo nessuna voce immediata abbiamo tante testimonianze scritte 30, 40, 50 anni più tardi che hanno dato il loro valore ma non questa stessa immediatezza autenticità di un diario adesso abbiamo un diario e sono molto felice è stato Shoshana è stata invitata a Berlino da una fondazione berlinese è venuta con tutta la famiglia e quindi è rimasto una settimana a Berlino ha 87 anni e sta per fortuna ancora di buona salute e sono stata molto felice di questo soggiorno su a Berlino adesso abbiamo un progetto di porre alcuni pietra di inciampo inizialmente alla casa sua dove viveva per i suoi genitori diputati uccisi e i suoi fratelli uccisi a Auschwitz probabilmente quindi questo è stato un incontro molto comavente l'edizione italiana comunque è proprio un corso di preparazione allora abbiamo praticamente tre libri la mia ricerca a base archivistica le memorie di Josco l'esponanza di un educatore e il diario che dà una volta una voce di una ragazza di Villa Emma non so se troveremo altri testi non è mai escluso sono penso che ma non si sa mai potrebbe essere che venga ancora qualcosa fuori alla luce io probabilmente non vedo più nulla allora quali sono dunque le prospettive di ricerca che restano ancora secondo me poi questa sarà la discuta tra di noi dove l'ho messo qua ecco ecco è una cosa incredibile questa è una delle cose nella ricerca e compro ieri all'aeroporto il quotidiano di Berlino il quotidiano di Berlino è il Tartagspiegel lo sto leggendo in aereo vedo una foto del padre della Lily Levin la Lily Levin ha a Lesnabodo regalato il diario cioè il diario vuoto alla Susanna perché erano amici e quindi io sapevo soltanto che suo padre aveva una piccola produzione di dischi a Berlino e questo è tutto altro non lo sapevo poi conoscevo la sua della fuga questa è un'altra cosa e quindi qui adesso c'è un gruppo di musicisti otto musicisti che il 26 giugno al museo ebraico di Berlino presenteranno un concerto che si chiama Rescue Treasure e hanno collezionato tutti questi dischi che sono ancora accessibili trovabili di questo Hersh Levin a Berlino che poteva essere attivo ancora fino a 38 sotto il nazismo perché i nazisti hanno permesso un'attività culturale ebraica all'interno della comunità ebraica non poteva più partecipare ai teatri a manifestazioni pubbliche non ebraiche ma diciamo come la federazione ebraica di Judical Truman poteva essere attiva fino al 38 quindi sotto il nazismo ha continuato a portare dischi che poi sono stati distrutti spaccati al pogrom del 38 e quindi questi otto musicisti l'hanno ritrovato ricostruito e la presenteranno la prima volta in un concerto al museo ebraico il 26 giugno purtroppo non possa esserci comunque entro in contatto con diciamo i curatori di questo concerto sono due ricercatori e probabilmente non conoscono la storia delle Lili non conoscono la storia bene della fuga dell'esilio del suo padre e quindi qualcosa a cena c'è allora così vengono fuori delle cose possiamo se parliamo di ricerca potremmo ricostruire l'ambiente familiare di questi ragazzi come ha fatto anche la Maria per Salomona Papi a Sarajevo facendo ricerche sul posto ci sono soprattutto due atti che ci interessano che io non avevo consultato tranne per la Shoshana e senz'altro gli atti di restituzione cioè quando c'era la possibilità negli anni 50 di chiedere la situazione alla Germania bisogna mandare documentazioni tutti questi atti sono adesso aperti alla consultazione e così potremmo vederli per tutte le famiglie se volessimo quindi si potrebbe anche in questo modo in Germania continuare la ricerca anche che al centro di documentazione di Aralson ci sono anche documenti c'era una ricerca che si potrebbe fare poi c'è un progetto interessante in corso nell'ottobre del 38 i libri polacchi che vivono in Germania venivano per la maggior parte espulsi verso la Polonia diciamo un preludio già alla deportazione un allontanamento massiccio ma ancora eseguito in un modo non completo perché non erano ancora le SS ma la polizia locale che si occupava 15 anni molto eccezioni non si sa perché altri che sono stati rimandati dalla frontiera potevano ritornare in Germania e tutto questo è un corso di ricerca in questo io mi sono sempre chiesto quali dei genitori dei ragazzi berlinesi sono già stati allentornati in Polonia quali sono ritornati quali sono rimasti ancora a Berlino dunque speriamo anche questo progetto ricerca di avere più risposte poi un'altra cosa sarebbe la pubblicazione di documenti cioè quando ho fatto il libro sui ragazzi di Villa Emma ho pensato anche di un appendice documentario ma il libro era già abbastanza lungo e pesante quindi ho rinunciato si potrebbe fare anche un fascicolo di documenti e c'è una possibilità che adesso può realizzarsi non so se effettivamente vado in porto è uscito è stato terminato di recente un ottimo lavoro di Silvano Longhi libri libri italiani in Svizzera come? e questo verrà pubblicato fra poco nella colonna dell'istituto storico germanico a Roma però anche in tedesco perché è stato notizzo presentato all'università di Monaco di Baviera ottimo quindi sono in contatto con Silvano e quindi spero molto adesso in un progetto nella documentazione della SEM io stesso avevo scritto 10-12 anni fa una volta un saggio per la rassegna di Israele ricostruzione virtuale dell'archivio della SEM quindi spero che la Sara Berga che è una giovane ricercatrice bravissima che ha eseguita la parte sull'Italia nella collana della fondazione per libri ai senati europei a Berlino per il monumento c'è un centro studi anche e quindi è preparatissima l'edizione di tali testi e spero che la Sara sarà in grado di occuparsene se non avessi avuto Vilè ma grazie a Stefano o malgrado lui avrei fatto questo progetto subito dopo ma insomma così vanno le cose e adesso devo cercare giovani ricercatori che possano continuare questo che una volta mi era proposto da fare allora qui possiamo vedere che in una documentazione della SEM devono anche integrarsi alcuni documenti di Villa Emma di importanza perché Villa Emma è stata proprio un'attività essenziale tanto tempo sconosciuta e sottostimata della SEM e quindi sono progetti in corso sì ma diciamo possiamo un po' per Villa Emma voglio chiudere subito perché non è troppo lungo mi sembra troppo lungo interessante naturalmente sarebbe una ricerca per Villa Emma dopo guerra cioè Marco Sciocchi che era economico del gruppo di Villa Emma torna dalla Svizzera e fonda subito nel 1945 una acciara cioè una scuola agricola a Villa Emma che rimane fino al 1948 per displace persians ebrei che arrivano oltre le Alpi e cercano di partire per la Palestina imbarcando sui porti italiani e quindi noi sappiamo pochissimo di questo secondo periodo quello che raccomando la fondazione è di fare interviste perché ho avuto contatto con i 90 anni che mi ha raccontato anche la storia e quindi diciamo questa seconda storia di Villa Emma è forse più presente anche nelle memorie dei 90 anni perché non c'era l'intermezzo della resistenza che è praticamente una frattura della memoria e quindi secondo me questo sarebbe interessantissimo fare una collezione che poi serviranno a una ricerca futura più approfondita a base di documenti i problemi di questa ricerca sarebbe che i documenti sionisti cioè che hanno organizzato le Aksharah che hanno oltre 50 in Italia in quel periodo sono per la maggior parte in ebraico che io non conosco anche molti studiosi italiani non la conoscono invece aveva la fortuna perché fino al 45 quasi tutti gli arti sionisti sono in tedesco perché la sede dell'organizzazione sionistica fino al 33 è stata a Berlino ebrei tedeschi per la maggior parte erano nella posizione responsabile e quindi per me era facile utilizzare questi documenti ma dopo il 45 anche per me le porte sono chiuse per mancanza di conoscenza linguistica però direi dobbiamo andare avanti c'è una giovane ricercatrice qui nella sala e spero che la dottoressa di Padova e spero che poi possa intervenire un po' sulla situazione di ricerca perché le ricerche cominciano e si fanno adesso per il periodo dopo la guerra e mi sembra che sia veramente importantissima che si comincia anche con un notevole ritardo devo dirlo anche un po' nei confronti della ricerca in Germania sulle displaced persons dopo la guerra questo sarebbe un argomento un altro che mi è sempre un po' interessato è come mai questa accoglienza spontanea quasi affettosa da parte dei ragazzi delle ragazze non antellane nei confronti dei ragazzi di Bielema cioè senza altro c'erano indietro fascisti nelle scuole e quando Isma Piccinini mi dice che eravamo costretti a vedere il film Youth Zuz Breo Zuz quello diciamo terribile film propagandista nazista nelle scuole le scuole dovevano andare nel cinema di un'altra e dovevano Youth Zuz insieme e ci credo e hanno letto anche nella scuola la difesa della razza allora dobbiamo secondo me sapere un po' di più della scuola a 90 per capire meglio come è possibile malgrado tutto questa spontanea accoglienza e simpatia che i giovani ebrei hanno avuto da parte dei coetane e non antolani questa ricerca da fare anche su materiale locale provinciale quindi secondo me per meno ostacoli di quella della emma di dopo guerra dunque con questo voglio terminare e poi sentiamo un po' la discussione